Buongiorno, oggi è sabato 17 novembre, la rassegna stampa in breve di Video33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, sarà una giornata all'insegna del cielo sereno, così anche nella giornata di domani, all'inizio della mattinata qualche foschie noqua nel fondo valle. In regia abbiamo Daniel Sumerer con il suo aiuto, andiamo a vedere quello che accade questa mattina intorno alle 6.30 sulla conca che ospita la città a capoluogo, cioè Bolzano, come detto vedete le nebbie a bassa quota, alcune nuvole ancora in transito all'orizzonte, bellissimo gioco di luci grazie alla presenza del sole che sta per sorgere all'orizzonte. Andiamo come nostra abitudine a vedere anche la grafica degli esperti meteo della provincia di Bolzano innanzitutto, 5 gradi nel capoluogo come minima, 4 gradi a Merano, 1 grado a Bressanone, meno 2 gradi a Brunico, meno 3 gradi a Vipeteno, temperature massime in linea con quanto ha caduto ieri. identica situazione nella vicina provincia di Trento, lieve flessione dei valori minimi, 2 gradi nel capoluogo e 13 di massima, notevole quindi l'escursione termica, identica situazione ad Ala, 14 gradi come massima a Riva da Rigarda, 8 a Cavalese, 9 a Fiera di Primiero. Andiamo con l'aiuto di Daniel a vedere quali sono le aperture dei quotidiani che troviamo in edicola, oggi purtroppo la cronaca nera ci porta subito in Trentino, il quotidiano Ladige, omicidio-suicidio a Folgaria, ammazza il figlio della compagna e poi si spara dopo una lite, Alessandro Pighetti, 31 anni, colpito con una fucilata da Massimo Toller di 60 anni, il giovane poco prima aveva tolto la pistola al patrino ma questi aveva anche un fucile, la tragedia. La tragedia è raccontata nel dettaglio a pagina 34 e 35, Massimo Toller ha puntato l'arma contro Alessandro Pighetti, l'allarme è stato dato dalla madre che poi è riuscita a scappare, momenti di tensione con le forze dell'ordine, la casa ovviamente è stata subito circondata, si temeva potesse sparare ancora poi una volta all'interno, hanno scoperto la seconda tragedia, comunità sotto shock, paese blindato per ore, evacuati i vicini di casa. L'identica notizia ovviamente la troviamo in apertura sul quotidiano trentino, ammazza il figlio della compagna e poi si uccide, la moglie riesce a scappare. Per la politica la prima giunta del governo provinciale Fugatti si è riunita a Di Maro per dimostrare la vicinanza della politica alle zone colpite dal maltempo, tra le decisioni subito assunte la riapertura del punto nascita di Cavalese con il primo dicembre. Andiamo in provincia di Bolzano, il Corriere dell'Alto Adige, circoscrizioni così sono inutili, gennacolo, l'assessore riapre il caso, c'è troppa politica, meglio avere i cittadini come referenti nei quartieri. Il quotidiano Alto Adige, oltre riferimento a quanto accaduto a Folgaria, ci si occupa del maltempo, la conta dei danni tra Lavazze e Oberegen distrutti 500 ettari di bosco. Il quotidiano lingua tedesca Dolomita, anche qui l'apertura dedicata all'omicidio e suicidio di Folgaria e poi il successo dei cuochi altotesini, dopo anni la stella Michelin torna anche a Bolzano. Il quotidiano Tagest Zeitung, ci si occupa del nuovo libro della scrittrice altotesina Lily Gruber, libro dedicato agli anni 60, agli anni degli attentati. Tra i tanti interrogativi c'è quello relativo agli attentatori, ci si chiede se fossero alla fine degli utili idioti. Il Corriere della Sera, Salvini Di Maio prova di forza sugli inceneritori, la Lega li vuole, il leader Movimento 5 Stelle dice così crea tensioni. E poi quello che sta accadendo negli Stati Uniti in queste ore, fuoco e neve, shock in America, in California 600 dispersi causa gli incendi, 8 morti invece a New York sotto una fitta nevicata, vittime causate soprattutto dagli incidenti stradali. Il sole 24 ore, inflazione giù, inflazione giù e incertezze, Draghi frena sui tassi. A dicembre valuteremo se aggiustare il percorso previsto per l'aumento, dice il Presidente della Banca Centrale Europea. E poi gli inceneritori, emergenze inceneritori, sono pochi e tutti al nord, coinvolta anche la nostra provincia, solo 40 impianti ancora piccoli e tutti concentrati al nord. Bolzano tra i pochi ad avere un impianto di termovalorizzatore, cioè brucia rifiuti per produrre energia. Uno spunto di riflessione che arriva da Napoli, nel Capodanno del 2005 i fuochi d'artificio esplosi per 6 ore nella sola città di Napoli hanno rilasciato di ossina pari a 120 inceneritori in un intero anno, da non dimenticare questo in vista dei festeggiamenti del Capodanno. È tutto, in chiusura come sempre io vi ricordo gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano. Il 21 di novembre sappiamo riapre la foresta natalizia nel giardino della Forst. Il 23 di questo mese partita di hockey su ghiaccio tra Bolzano e Snoimo. Il 30 ritorna l'hockey su ghiaccio sempre al palaonda con i biancorossi che aspettano gli avversari ungheresi. È tutto, come sempre vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.